Tanti, troppi nomi circolano intorno alla campagna acquisti della Maceratese, uno solo a riscontro con la realtà delle trattative ed è quello di Stefanelli, già l'anno scorso peraltro in predicato di indossare la maglia bianco-rossa, ma poi tutto sfumò con l'arrivo di Melchiorri. Ora i ruoli potrebbero però capovolgersi e potrebbe essere proprio il centravanti Iesino a sostituire il partente Melchiorri, sempre che la punta bianco-rossa riesca a casarsi con l'unica società di serie B che ha intenzione di acquistarlo, ma non si tratta della Ternana. Diciamo quindi che la decisione di Melchiorri, al quale non interesserebbero altre soluzioni in prima, in seconda divisione e in serie D, sta condizionando le operazioni della Maceratese sul mercato.